La Rosa, un Consiglio Comunale molto agitato, all'inizio una mozione con gli emendamenti, poi addirittura tre ordini del giorno. Alla fine la vostra scelta, diamo la parola ai cittadini, perché? La questione è che i cittadini, sappiamo che ieri tra l'altro hanno fatto una proposta di quesito che poi verrà valutata dal gruppo del procedimento e per noi la cosa va benissimo. I cittadini, se raccolgono duemila firme, hanno un quesito valido, perché poi anche il quesito deve essere chiaramente un quesito valido che interrompe il forno perché va ben formulato, per noi il referendum è assolutamente una cosa positiva. Quindi non abbiamo avuto problemi ad accettare questa cosa e quindi in qualche modo può essere anzi la garanzia che il Consiglio Comunale sarà attento alle loro esigenze. Tante le critiche che vi sono piovute addosso, tra queste una, perché non ne l'avete presentato voi, insomma avete fatto voi un'azione del genere che portasse poi all'indizione del referendum? Qui in Consiglio Comunale non è arrivata nessuna richiesta precisa di un quesito. Si diceva sempre facciamo referendum, facciamo referendum, però nessun quesito è stato presentato. Poi noi riteniamo una cosa, poiché l'incidenza anche dei costi del referendum in una città così malmessa dal punto di vista economico, ricordo che il costo del referendum supererà abbondantemente i 125 mila euro che verranno tolti poi dai servizi sociali, dalla pochissima manutenzione delle state che riusciamo a fare. Quindi farla con il rischio di andare davanti a un quorum, perché poi deve passare anche appunto il quorum che sono circa 22 mila persone, e beh almeno 2 mila firme ritroviamole. Alla luce di queste perplessità, il Movimento 5 Stelle si impegnerà per la raccolta di queste due firme e poi eventualmente per il referendum oppure i timori quasi quasi insomma vi spingono a sperare che poi questo quorum non venga raggiunto? I comitati faranno diciamo la loro propaganda, probabilmente per noi rimarremo in una posizione in cui accetteremo il risultato elettorale senza fare nessuna propaganda. E se i cittadini intendono bloccarlo, consapevole anche che avrà delle ripercussioni economiche sulle casse del comune, la loro volontà viene comunque prima di tutto. Grazie a tutti.